Lo avevano annunciato qualche giorno fa. Oggi, nonostante il mia colpa del sindaco Cateno De Luca, consumatori associati non molla la presa e si dice pronta ad avviare una class action contro il Comune per la vicenda legata alle cosiddette cartelle pazze dell'Imu. Dal mese di ottobre, più di 20.000 contribuenti hanno ricevuto l'avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'Imu relativo all'anno 2013. Fin qui nulla di strano, se non fosse che per il 20% di essi si è trattato di un semplice errore dovuto a un mancato aggiornamento della banca dati dell'anagrafe tributaria di Palazzo Zanca. Questa mattina l'hotel Sant'Elia, così come aveva annunciato consumatori associati, ha tenuto una conferenza stampa per presentare un'iniziativa che prevede, oltre all'opposizione, anche la richiesta di risarcimento e il pagamento delle spese. In questo modo, se tutti i cittadini che per errore hanno ricevuto l'avviso di accertamento del risco dall'azione, Palazzo Zanca potrebbe essere condannato al pagamento di decine di milioni di euro. È probabile che le cartelle siano tutte da annullare, perché stiamo facendo un approfondito studio da parte del team coordinato dall'avvocato Giuseppe Gentile, che è uno dei maggiori commercialisti della città, perché probabilmente la firma meccanica apposta in calcio alla cartella non sarebbe adeguatamente supportata. In questo caso tutte e 28.700 le cartelle sarebbero da annullare. Ma in ogni caso, le ammissioni stesse tenute nella stampa, che siamo di fronte a 6-7.000 cartelle da annullare, ci convincono molto poco. Ci convince molto poco anche il fatto che nelle cartelle si dice che siano state spedite tutte da Napoli, il che ci fa pensare che ci sia un ulteriore anello intermedio che prepara queste cartelle e non è dato sapere perché il Comune non lo comunica. Noi, come consumatori associati, prendiamo una posizione netta per i nostri associati ed è una posizione di battaglia, perché non è possibile utilizzare i cittadini come un bancomat, né tutelarsi dietro la circostanza che la colpa è sempre di quelli che li hanno preceduti. Ricordiamo che tutti coloro i quali ritengono di aver ricevuto una cartella pazza e quindi errata può presentare un'istanza di annullamento al Comune, regandosi allo sportello di competenze o inviando una mail con post certificata. L'ufficio di Palazzo Zanca provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla notifica dell'atto con una nota in cui è contenuta la rettifica o l'annullamento. Qualora così non fosse, è possibile fare ricorso al quale l'ente dovrà rispondere entro 90 giorni.